Cari amici telespettatori, scusateci per il disivoco, ma prima c'è stato un piccolo problema tecnico, ora siamo nuovamente live, quello di prima non consideratelo come live, ma sapete questa tecnologia fa i suoi capricci a volte e da volte è buono. Ora siamo davvero live, spero che vi possiate guardare e passiamo alle nostre varie canzoni non prima di aver fatto gli auguri a tutti coloro che fanno gli anni quest'oggi, partendo dagli amici di Facebook come Jacopo Cardin, passando per Marco Petrin e via via tutti gli altri amici. E quindi amici auguri a tutti quanti voi e passiamo alla musica. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 e 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 a tutti.